Ragazza, da pochi minuti è finito questo sesto derby e vedere la gente che non va a casa, che festeggia, penso che sia il massimo. Sicuramente, vincere in un derby è sempre qualcosa di particolare, questi ragazzi sono fantastici. La Serie è veramente tosta, un applauso anche all'Ambri che chiaramente ha lottato, ma con questo portiere qui a Lugano ha trovato una sara cinesca. Penso che la grande differenza l'ha fatta il nostro carattere quando sotto di quattro reti ad Ambrì siamo riusciti a recuperare, quella è stata la chiave della Serie. Adesso cominciano i play-off, noi negli ultimi tre anni abbiamo sempre voluto fare qualcosina, questo play-in sempre, e quindi ormai ci abbiamo preso a gusto, però adesso col Friborgo bisogna cambiare. Ma sai, è stata anche una stagione molto difficile, con tantissimi infortuni, quindi io faccio comunque un applauso alla squadra, perché abbiamo solo due giocatori in squadra che hanno giocato tutte le partite, abbiamo avuto dei ferimenti importanti, eppure siamo sempre stati a testa alta. Ce ne aspettiamo anche lunedì prossimo questi 7.000, come li abbiamo visti stasera, non deve essere un'eccezione il tutto esaurito la Conarena. Speriamo, sì, chiaramente avere la pista piena ci dà una spinta in più, quindi spero che i tifosi non ci lasciano, anziché adesso prendi questa onda di entusiasmo e ci seguino. Anche se non segniamo il power play, il nostro pubblico c'è sempre e l'uomo in più c'è sempre. Esatto, esatto. Grazie Vicky. Grazie.